I più grandi ci sono tutti! Mediaset Italia, il nuovo canale della famiglia di Teleratino, è gratuito per tutto il 2011. I migliori programmi trasmessi in contemporanea con l'Italia. Non ci sono più barriere, non ci sono più confini. Mediaset Italia, pensate a godervelo, non a pagarlo. Grazie a tutti.